Allora, sono qua su un supporto, ok, e questi due datum non sono allineati come l'albero e dunque non posso andare a creare il codatum, ok, e dunque questo è sbagliato. Dunque se io clicco qui, andiamo a cliccare qua, e vediamo se riusciamo qui, e porto questo qua, questo io devo toglierlo, ok, poi aggiungerò, aggiungi un nuovo, e metterò il mio B, ok, proprio perché, naturalmente poi questo devo spostarlo perché sennò va fuori dal, ok, e andremo poi a spostare così, se riusciamo dopo, ok, vediamo se, ok. Al di là, anche questo più o meno 0,1 a mio avviso è inutile perché ce l'abbiamo già nelle tolleranze generali, siccome sono già stato molto largo qui, non mi interessa, e poi probabilmente sarà quel livello lì, e dunque non devo metterle più o meno 0,1, l'idea è però questa che non posso usare qui il codatum. perché non sono allineati, ok, e niente, ci vediamo alla prossima, arrivederci.